Vale oltre 200 miliardi di euro l'economia sommersa in Italia, anche nel 2022 ne è proseguita la crescita. L'Istat la definisce economia non osservata, ovvero nascosta o illegale. Per l'esattezza, secondo l'Istituto di Statistica, ha fatto segnare un valore di 201,6 miliardi di euro, con un aumento di circa 20 miliardi, ovvero il 10% in più rispetto al 2021, un dato superiore alla crescita del PIL. L'economia sommersa, propriamente detta, si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro, in crescita ovviamente, mentre le attività illegali sfiorano i 20 miliardi. L'economia non osservata, aggiunge l'Istituto di Statistica, coinvolge quasi 3 milioni di italiani, un dato altissimo. È costituita dalle manipolazioni del fatturato, dal lavoro nero, dai fitti sommersi, cioè in nero, in aumento all'evasione in molte attività professionali e artigianali, dai professionisti veri e propri come medici, avvocati, eccetera, agli artigiani come parrucchieri, idraulici, commercianti, ma anche da attività illegali, come il commercio di stupefacenti, la prostituzione e il contrabbando di sigarette.